Ciao ragazzi e benvenuti in questo video Io sono Axel, non da 9 Oggi faremo un attacco Noi lo barro ieri Noi prendiamo le risorse che le ho prese Troverò un bersaglio E lo attaccherò Va bene ragazzi Ho trovato un bersaglio Ho trovato un bersaglio Lo proverò ad attaccare Cioè non lo attacco Poi dopo provo a forza più il multilo Ecco il re barbero che si è riuscita Il re barbero sta alla larga da mio barro Questo studio è molto Ora deseggiamoci Madonna bella Sto bastardo ha tutte le risorse Tra le difese e tra le mura Quindi è un po' di fustino La vozione fungine Non l'ho usata Ora è fatta un poco di nero Fuggiamoci La testa se c'è E che marogna però Vabbè ragazzi Il video Si vengono l'idea qui Lasciate Dei like Iscrivetevi E commentate Ciao Ciao